Un'altra novità Omedix dell'IFA di Berlino 2010 si chiama massaggiatore tapping per la zona cervicale e spallare. Lo vediamo in questo momento su un ragazzo che si è cortesemente offerto di provarlo. Il prodotto è una sorta di cuscino, come si riesce bene in camera a notare, emette delle vibrazioni che fanno come un massaggio thailandese sulla schiena, molto benefico e molto piacevole. L'ho provato anche io personalmente. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore, perciò sono toccabili molto facilmente. Si può abbassare, alzare l'intensità, lasciarlo in modalità demo oppure accenderlo o regolare l'intensità. Appoggiandosi come fa il modello in questo momento, il prodotto sarà assicurato alle nostre spalle oppure chiudendolo con una clip io potrò appoggiarmi e sentire i benefici di questo massaggio.